Ehi bro cos'è un furri? Un furri è quella persona con un interesse per animali antropomorfi con però una personalità e una caratterizzazione assolutamente umana Quindi qualcuno che si diverte con immagini di cani che si comportano come esseri umani in scenari pittoreschi sono considerabili furri? Assolutamente sì Davide, ciao!